buongiorno sono elena mandrioli agente immobiliare dell'agenzia casa in e oggi vi mostrerò questa porzione di casa in vendita a vezzano sul crostolo questo è un video interattivo per cui se lo state vedendo dal vostro smartphone con il dito potete girare ed interagire in tutte le stanze se lo state vedendo dal vostro pc potete con il mouse cliccando sul sul video far vedere comunque tutta la stanza ok e sarà un'esperienza molto divertente e oggi andremo a vedere nello specifico tutta la distribuzione di questo immobile ci troviamo qui in questa splendida sala molto ampia dotata di stufa a pellet e aria condizionata e questo tetto in legno a vista crea molto calore all'interno dell'ambiente la copertura di tutta la casa è stata fatta nel 2010 la casa è dotata di quattro ingressi questo vi permetterà di avere la massima fruibilità di tutto l'intero immobile benissimo siamo qui all'ingresso principale di questa porzione immobiliare e in fondo abbiamo il bellissimo salone che prima abbiamo visitato alla nostra destra c'è una cucina abitabile e poi le tre camere da letto con il bagno di questo piano andiamo a vedere la cucina come vedete questa cucina abitabile è arredata su tutti i quattro i lati questo vi dà l'esatta dimensione degli spazi abbiamo due camere da letto singole che in questo momento vengono utilizzate come unico spazio quindi camera da letto e studio ma come potete capire è un attimo se avete bisogno poter ricreare le due camere da letto separate da qui possiamo accedere al salone che abbiamo visto prima oppure sulla mia destra avere tutta la zona di cantine e lavanderia molto utile per ogni immobile un grande spazio a vostra disposizione dove potrete realizzare quelli che sono gli spazi accessori di cui avete bisogno grazie ad avermi seguito in questa avventura sono elena mandrioli agente casa in